l'emozione lo spettacolo la sfida martedì 3 mercoledì 4 e venerdì 6 gennaio vivi con noi in diretta dalle 21 la magia della sfida fra romagna ed emilia sul tappeto verde otto campioni del biliardo si daranno battaglia fino alla finale di venerdì 6 gennaio e arriva la pennellata finale di marco belloni solo il rosso 16 punti di calcio ne fa addirittura 20 e vince paioli super pallino blu martedì 3 mercoledì 4 e venerdì 6 gennaio dalle 21 in diretta 8 campioni a confronto